Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video qui da breve, io sono Altair e oggi vi spiegherò e vi mostrerò dove si trova la statuetta di Kalus. Quello che vi basterò fare è avviare a recensione lutto, dopodiché vi basterò avanzare verso la stanza dei fiori e fare pulizia e piazzare il trasmettitore. Non appena si apriranno le porte vi basterà andare a sinistra e troverete la statuetta di Kalus. Detto questo spero di esservi stato d'aiuto e se fosse così vi chiedo gentilmente di lasciare un bel mi piace, di iscrivervi al canale e attivare la campanella per restare aggiornati sui prossimi e futuri video a tema Destiny 2. Io vi ringrazio per aver visto questo video e ci vediamo in un prossimo video, ciao ragazzi! Ciao! Ciao!